Innamorato. Anche il Capitano non poteva mancare alla 77-88esima edizione della mostra di Venezia, partita giovedì 3 settembre 2020. Un'edizione sicuramente diversa, che per l'emergenza sanitaria ancora in corso, ha dovuto fare fronte alle disposizioni ministeriali anticontagio. Non poteva che fare la sua apparizione in compagnia della sua dolce metà. E alcuni utenti hanno colto l'occasione al volo per lanciare la bomba su un dettaglio. Un red carpet che ha dato modo a molti volti noti di sfilare sorridenti, in abiti eleganti e di lusso. Ciascuno con il proprio stile. Vip dopo vip, hanno dato prova di grande stile. Ma non solo. Per alcuni di loro è stato tempo di dedicarsi all'apparizione pubblica con al proprio fianco la loro dolce metà. E Francesca Verdini conquistano il podio e vengono presi di mira. Continua a leggere dopo a foto. Non potevo passare inosservata la coppia formata dal leader della Lega e la sua compagna. È stato lo stesso Salvini ad aver reso pubbliche sul suo profilo Instagram le foto in compagnia di Francesca. Immagini che hanno colto la coppia in un momento sicuramente più spensierato e che hanno attirato l'attenzione di molti per un dettaglio che in un modo o in un altro doveva essere sottolineato. È così che proprio sui social, sono stati i fan a notare e aprire il dibattito su una schiacciante somiglianza tra Francesca Verdini e un altro volto noto femminile decisamente apprezzato dal pubblico italiano. Basta una semplice occhiata per cogliere subito il dettaglio e rimanere stupiti. E davvero, le due donne sono praticamente identiche. Alcuni indizi. La sosia è una conduttrice. Scopriamo di chi si tratta. Continua a leggere dopo le foto e il post. Ebbene sì, la somiglianza che tutti notano è tra la Verdini e Caterina Balivo. Il dibattito si accende nel giro di pochi minuti, al punto che il post Instagram del Capitano non fa che riempirsi in tempi record di commenti che animano la discussione. Senza alcun dubbio, Francesca e Caterina sono due gocce d'acqua. Gli utenti, divertiti, proseguono indisturbati a far sapere al leader della Lega che, in quanto a donne, sembra avere decisamente buon gusto. Gli utenti, divertiti, proseguono indisturbati a far sapere al leader della Lega che, in quanto a donne, sembra avere decisamente buon gusto. Gli utenti, divertiti, proseguono indisturbati a far sapere al leader della Lega che, in quanto a donne, sembra avere decisamente buon gusto. Grazie a tutti.